Cronaca, si cercano i complici dell'uomo folgorato nell'ex ospedaletto a Teramo intanto è polemica sulla sicurezza Comune di Teramo e sugli edifici dismessi nasce un tavolo per pianificare il loro destino La polemica, la pedana del Babila sfratta i motorini, l'assessore spegne le polemiche, erano abusivi Regione, 500 giovani abruzzesi parteciperanno ai tirocini in aziende europee E per lo sport il calcio questa sera il Teramo a Salerno per la prima di Supercoppa Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Teleponte Apriamo con la cronaca Si incentrano sulla telefonata ricevuta dal cognato della vittima le indagini della squadra mobile della questura di Teramo per individuare il complice o i complici di Marcello Merlini il 51enne di Torricella morto folgorato ieri nel corso di un tentativo di furto di rame all'interno dell'ex ospedaletto di Corso Porta Romana a Teramo Secondo gli investigatori teramani infatti a fare la telefonata al parente di Merlini sarebbe stato uno dei complici in quanto a conoscenza non solo di molti dettagli sul posizionamento del cadavere ma soprattutto in possesso del telefonino della vittima Lo stesso cognato del 51enne è stato ascoltato a lungo ieri dai poliziotti per capire altri dettagli della telefonata e se conosce chi l'ha effettuata intanto la salma dopo l'esame cadaverico esterno all'obitorio dell'ospedale di Teramo verrà restituita nelle prossime ore ai parenti per l'esegue a uccidere l'uomo quasi sul colpo sono state le tre violente scariche di corrente da 20.000 volt rimediate mentre cercava di tagliare i cavi in rame e i cablaggi all'interno della cabina di media tensione che serve l'intero quartiere di Porta Romana Merlini credeva che i quadri fossero dismessi ed ha agito con estrema sicurezza per lui non si trattava della prima esperienza di questo tipo da quanto si è preso da fonti investigative era stato coinvolto in almeno altri quattro precedenti episodi di furto di materiale elettrico in altre zone della provincia di Teramo la tragedia ha comunque riproposto il tema della sicurezza e della violabilità delle strutture pubbliche dismesse in città al centro di molte polemiche fino ad oggi sul loro recupero ma adesso anche sui rischi che nascondono per disadattati e ladri che riescono ad introdursi in esse correndo seri rischi personali recuperare tutti gli edifici e le aree dismesse della città di Teramo per questo l'amministrazione comunale teramana ha istituito un tavolo di pianificazione strategica sentiamo il comune di Teramo intende portare avanti un tavolo per procedere alla riqualificazione degli edifici dismessi ma non solo sì è un tavolo diciamo di pianificazione strategica noi sul piano strategico ci stiamo lavorando già da diversi anni siamo partiti con Gianni Chiodi fa parte del programma elettorale del sindaco e alla luce anche degli ultimi avvenimenti c'è sempre più la necessità di minor consumo del territorio e questo credo che su questo siamo tutti d'accordo una crescita e uno sviluppo sostenibile della città e credo che su questo siamo anche tutti d'accordo abbiamo ricevuto questo finanziamento di 3 milioni di euro per la mobilità sostenibile e ci stiamo lavorando ma soprattutto la cosa che diciamo più bisogna affrontare con determinazione è quello dell'utilizzo degli spazi dismessi purtroppo ne abbiamo tanti in questa città penso all'università penso al patrimonio dell'Alza e anche lo stesso ospedaletto dove ieri è accaduto questo episodio diciamo grave è serio ma penso all'area ex Villeroi penso all'ex area Pompei penso all'arretramento della stazione penso all'ex area Done che verrà riqualificata grazie a Globo però voglio dire tutte queste tutte queste diciamo attività devono essere possono essere devono essere messe intorno a un tavolo quindi al tavolo parteciperanno innanzitutto tutte le istituzioni quindi comune provincia regione l'università la ASL e poi i cosiddetti stakeholder cioè i portatori di interessi gli ordini professionali insomma tutti potranno dare il loro contributo e discutere su quello che deve essere il futuro di questa città ripartendo dalla pianificazione strategica che noi abbiamo portato avanti in tanti anni e magari trovare anche nei portatori di interessi qualcuno che può in qualche modo contribuire attraverso interventi attraverso sistemi tipo quello che ha utilizzato Renzo Di Sabatino cioè di vendere un edificio in cambio magari di lavori perché oggi è all'ordine del giorno però tutto questo deve essere guidato e credo che il comune abbia anche il compito di fungere da capofile in un discorso di questo genere Torniamo al problema del calcio scommesse sono otto le società su cui sono in corso approfondimenti da parte della squadra mobile di Catanzaro e dello SCO in relazione al calcio scommesse rispetto a quelle emerse con il fermo di 50 persone oltre a Salernitana Benevento e Ascoli ulteriori accertamenti riguardano Regina Messina Renate Torres Viterbese e Norese le ultime due di Serie D le altre sono squadre di Lega Pro in relazione a queste gare Salernitana Messina Ascoli Sant'Arcangelo Regina Benevento Renate Torres Viterbese Viterbese 15 pagine sintetizza i target da conseguire entro il prossimo 31 dicembre viene fissato al 28 febbraio 2016 il termine entro il quale ogni direttore generale deve far pervenire al Dipartimento per la Salute della Regione la relazione comprovante gli adempimenti posti in essere i risultati raggiunti per ciascun obiettivo Nella delibera si precisa che particolare rilevanza va attribuita all'adempimento dell'EA inerente l'area della prevenzione il cui mancato raggiungimento determina di per sé l'esito negativo del processo di verifica inoltre si specifica che il processo in parola si considera positivamente superato se si raggiunge complessivamente l'80% del giudizio di adempienza degli obiettivi previsti Nel provvedimento è stato altresì previsto che l'accertamento da parte della Regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute assistenziali nella misura dell'80% costituisce per il direttore generale della ASL grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso La pedana davanti al locale Babila a Teramo non piace la sua installazione ha sollevato polemiche l'assessore al commercio del comune di Teramo Tancredi ha precisato abbiamo autorizzato il Deor della Babila eliminando alcuni parcheggi per motocicli che erano abusivi perché nella zona traffico limitato vediamo Numerose le polemiche intorno alla pedana installata dalla nuova attività Babila insomma sembra che a causa di questa pedana vadano persi anche dei posti per i motocicli qual è la verità e come stanno le cose Tancredi In questo caso non facciamo nulla di speciale semplicemente autorizziamo abbiamo autorizzato il Deor del Babila eliminando alcuni stalli per motocicli che oltretutto vorrei premettere che sono stalli dove parcheggiavano abusivamente i motocicli perché perché quello è ZTL quindi noi fino ad oggi abbiamo tollerato che lì ci parcheggiassero dei motocicli che la maggior parte non avevano accesso alla ZTL oggi secondo me riportiamo a norma una situazione perché spostiamo quegli stalli in una zona invece limitrofa dove c'è accesso alla ZTL forse non saranno lo stesso numero ma saranno ridotti forse di 2 o 3 quindi non mi sembra che ci sia tutta questa difficoltà soprattutto per chi vuole cosa che noi naturalmente vogliamo agevolare per chi vuole circolare con il motociclo con lo scooter qualcuno dice tutto sommato si poteva concedere uno spazio meno ampio e forse qualche problema in meno ci sarebbe stato no perché lì anche concedendo uno spazio meno ampio abbiamo la normativa sul pedonale che ci disciplina un metro e cinquanta quindi nello spazio diciamo che individuato fra il limite del Deor e diciamo così il muro della Tercas per chi conosce Teramo sa benissimo di cosa sto parlando non avremmo avuto nessuna possibilità di fare Deor spazio per gli scooter e pedonale quindi la scelta è stata quella di rendere quella strada non più percorribile con mezzi se non con le biciclette e di spostare gli spazi per gli scooter a dieci metri di distanza abbiamo già individuato uno spazio lì vicino che oltretutto è uno spazio raggiungibile senza entrare nella ZTL senza fare infrazioni alle prescrizioni per la viabilità e il traffico con una condanna a quattro anni e sei mesi per Adrian Popa il Tribunale di Teramo chiude in primo grado la vicenda giudiziaria legata all'operazione Casa Transilvania che nel gennaio del 2013 portò all'emissione di nove ordinanze di custodia cautelare in carcere per altrettanti romeni accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e allo sfruttamento della prostituzione insieme a Popa considerato capo dell'organizzazione il Tribunale ha condannato a un anno e quattro mesi la sua compagna unica donna della banda Lidia Mialia mentre ha assolto il terzo imputato Basil Ionut Radut gli altri imputati avevano definito in precedenza la propria posizione con riti alternativi 500 giovani abruzzesi potranno seguire tirocini formativi in aziende europee l'assessore regionale Sclocco spiega l'utilizzo di risorse messe a disposizione dalla regione con garanzia giovani vediamo da oggi sul sito Filabruzzo l'avviso per 500 tiracini formativi per ragazzi abruzzesi che vogliono andare in Europa come si accede a questa opportunità? intanto i ragazzi devono essere iscritti al programma garanzia giovani e quindi sul sito Filabruzzo ma anche sul sito di garanzia giovani abruzzo e quindi dovranno essere ragazzi già profilati dalla provincia dalle province dei centri per l'impiego 500 giovani che andranno a fare un'esperienza di lavoro di 6 mesi all'estero nei paesi membri europei quali le risorse che mette a disposizione la regione e quanto potranno utilizzare ogni tirocinante? le risorse sono ingenti perché sono 4 milioni e 2 e diciamo il meccanismo è simile a quello dell'Erasmus per cui a seconda del paese i ragazzi potranno avere un budget per poter soggiornare 6 mesi quindi a seconda del paese i budget vanno dai 2.500 euro fino ai 6.000 euro ci sono delle aziende preferenziate si le aziende preferenziate sono quelle che hanno sono abruzzesi che hanno la sede all'estero perché comunque il programma di garanzia giovani è un programma che prevede percorsi di occupabilità tutti noi speriamo però che poi si possano trasformare in occupazione per cui fare un'esperienza all'estero in un'azienda abruzzese significa poi far ritornare il ragazzo e magari poi assumerlo nella sede abruzzese non sono solo 500 i giovani abruzzesi? sì questi 500 fanno parte di questo avviso che uscirà questa mattina di garanzia giovani appunto iscritti al programma di garanzia giovani ma ci sono anche altre esperienze di work experience all'estero 138 ragazzi laureati sono già stati selezionati e partiranno saranno pronti a fare un'esperienza di lavoro extra regionale di tre mesi e c'è un altro avviso fuori da garanzia giovani che selezionerà 66 diplomati sempre per un'esperienza di lavoro extra regionale di tre mesi il comune di Roseto ha aderito alla manifestazione No Ombrina Mare i consiglieri riuniti in consiglio comunale hanno votato la bozza di delibera presentata dal comitato locale Notriv per chiedere l'adesione del comune alla grande manifestazione che si terrà il 23 maggio prossimo a Lanciano sabato prossimo anche prospettiva comune di Teramo ha aderito ufficialmente al coordinamento delle organizzazioni regionali No Ombrina per contribuire alla costruzione della manifestazione regionale L'Abruzzo è al di sotto della media nazionale come consumo totale del suolo ma è al di sopra per quello effettivo la provincia di Teramo è il secondo posto dopo Pescara come consumo del suolo nella nostra regione in Abruzzo sentiamo L'Abruzzo con il 5,15% di consumo totale di suolo è al di sotto del consumo medio italiano che si attesta sul 7% mentre al di sopra della media nazionale per il consumo di suolo effettivo ovvero il suolo al netto delle aree naturali protette parchi, fiumi, laghi, boschi ed altro la fotografia l'ha scattata il rapporto Ispra 2015 sul consumo di suolo in Italia a livello provinciale il consumo più elevato di suolo si registra nella provincia di Pescara con il 5,1% al secondo posto in Abruzzo la provincia di Teramo con il 5% poi Chieti 4,5% e l'Aquila 2,3% il consumo del suolo provoca un disturbo ecologico alle aree circostanti nella misurazione delle superfici del territorio alterate direttamente o indirettamente dal consumo di suolo a livello regionale l'Abruzzo presenta una percentuale 42% inferiore alla media nazionale che è del 54,9% a livello comunale la diminuzione del suolo effettivo segue in parte l'andamento provinciale per la provincia dell'Aquila comune con maggiore perdita di suolo e Avezzano con il 10,85% nella provincia di Chieti troviamo San Salvo con il 27,7% in provincia di Pescara il capologo adriatico Pescara con il 38,01% seguita da Montesilvano con il 28,3% nella provincia di Teramo troviamo Martinsicuro con il 26,38% Alba Adriatica 25,95% e Giulianova con il 19,15% di perdita di suolo la compromissione del suolo arreca danni al clima perché altera la regolazione del carbonio impedisce inoltre di trattenere una buona parte delle acque di precipitazione che defluiscono a valle potenziando da un lato i fenomeni alluvionali e dall'altro la desertificazione il questore di Pescara Paolo Passamonti ha presentato oggi le manifestazioni in programma per domani a partire dalle 10,30 negli spazi della questura nell'occasione ha tracciato il bilancio dell'attività della Polizia di Stato negli ultimi 12 mesi nel capoluogo adriatico vediamo il servizio sale il numero di arresti nella provincia di Pescara 362 quest'anno rispetto ai 257 dell'anno scorso notevole anche l'aumento di sostanze stupefacenti sequestrate dal 1 maggio 2014 al 30 aprile di quest'anno più di 2700 grammi di cocaina contro gli appena 500 grammi nello stesso periodo l'anno precedente 7500 i grammi di eroina e 18500 i grammi di hashish e marijuana i reati denunciati complessivamente sono diminuiti mentre sale il numero di violenze sessuali 32 quest'anno questi alcuni dati forniti dal questore di Pescara Paolo Passamonti che in occasione della festa per il 163 anniversario della fondazione della polizia di stato traccia un bilancio dei risultati ottenuti dalle forze dell'ordine e le operazioni di maggior rilievo tra queste quelle della polizia postale di Pescara che oltre a provvedere al costante monitoraggio della rete internet con particolare riguardo al fenomeno della pedopornografia online svolge anche un'importante campagna di sensibilizzazione rivolta ai più giovani abbiamo incontrato alunni nelle scuole della provincia di Pescara di tutto l'Abruzzo abbiamo portato un track itinerante in piazza Salotto a Pescara e a Giulianova dove operatori della polizia postale delle comunicazioni hanno incontrato i ragazzi della scuola secondaria per parlare dei rischi del web abbiamo arrestato nella nostra attività di contrasto ai crimini informatici un'associazione per delinquere quindi abbiamo contrastato un'associazione per delinquere insieme alla sezione di Teramo composta da persone che erano residenti in Italia e all'estero i quali utilizzavano dei codici carpiti illecitamente negli Stati Uniti passando per il Pakistan e poi venivano spesi con la compiacenza di alcuni esercizi commerciali del litorale adriatico è stato arrestato un uomo di circa 40 anni nella provincia di Chieti perché deteneva nel corso di una perquisizione abbiamo rinvenuto sui suoi iPhone nel materiale pedopornografico e questo ci ha portato poi a proseguire delle indagini anche in campo internazionale con delle rogatorie e quindi siamo in attesa di avere riscontro perché spesso molte delle persone con cui questa persona aveva contatti risiedevano all'estero in altre parti del mondo così come il web purtroppo richiede un percorso di formazione al rispetto e alla conoscenza del mare questo è l'obiettivo dell'iniziativa la scuola incontra la Capitaneria di Porto promossa dal Consiglio Provinciale a Pescara è rivolta agli studenti delle scuole superiori vediamo il servizio studenti a lezione di cultura marinara l'iniziativa le scuole incontrano la Capitaneria di Porto promossa dal Consiglio Provinciale in collaborazione con la Guardia Costiera vuole coinvolgere gli studenti delle scuole superiori di secondo grado della provincia di Pescara a una giornata formativa di educazione al rispetto e alla sicurezza del mare prima scuola ad aver aderito all'iniziativa il Liceo Sportivo Spaventa di Città Sant'Angelo bene noi siamo contentissimi di partecipare a questa iniziativa con l'amministrazione provinciale della Capitaneria di Porto perché la formazione sul mare sia sulla sicurezza in mare sia sulla salvaguardia e la tutela dell'ambiente marino rappresenta un valore anche per la scuola oltre che per le altre istituzioni diciamo pubbliche siamo particolarmente contenti di partecipare con una classe di Liceo Sportivo perché si tratta di ragazzi che tra qualche anno andranno a svolgere il ruolo di allenatore dirigenti sportivi giornalisti sportivi organizzatori di eventi quindi quello che seminiamo presso questi ragazzi avrà un valore aggiunto per il futuro l'iniziativa mira a sensibilizzare tutti i comuni della provincia di Pescara e altre scuole stanno in questi giorni confermando le adizioni al progetto precisa il presidente della provincia Antonio Di Marco svelati questa mattina la presenza del primo cittadino di Roseto Ennio Pavone del vice sindaco e assessore della cultura Maristella Urbini vincitori della tredicesima edizione del premio di saggistica città delle rose appuntamento riservato come tradizione a volumi di autori italiani e stranieri che siano dedicate ad illustrare la condizione dell'uomo contemporaneo così come si riflette nelle diverse discipline letteratura scienze umane e sociali per la sezione autori italiani il premio va all'Amberto Maffei con elogio della lentezza per la sezione autori stranieri a Rachel Polonsky con la lanterna di Molotov viaggio nella storia della Russia per la sezione tematiche giovanili intitolata Mikol Cavicchia la terna dei finalisti è composta da Edoardo Boncinelli e Galeazzo Sciarretta con Homo Faber storia dell'uomo artefice dalla preistoria alle biotecnologie e poi Melania Mazzucco con il museo del mondo e Antonio Caprarica con il romanzo di Londra storie segrete e misfatti di una capitale leggendaria tra le segnalazioni speciali per Alberto Vacca con le false accuse contro Silone William Di Marco con scritti e Marco Tabellione con il canto silenzioso la cerimonia finale dell'edizione 2015 del premio di saggistica Città delle Rose esiterrà domani venerdì 22 maggio con il consueto doppio appuntamento la mattina a partire dalle 9.30 presso il palazzo del mare la terna dei finalisti della sezione tematiche giovanili incontrerà la giuria dei giovani e poi alle 18 la cerimonia finale si terrà a partire appunto dalle 18 presso la splendida cornice di Villa Paris sita in via Marcacci 1 nella zona di Roseto Nord la ristampa a Teramo a fumetti la ristampa a Teramo a fumetti di Luigi Braccili verrà presentata domani presso la sala San Carlo del museo archeologico di Teramo vediamo la storia di Teramo affidata alle nuove generazioni verrà presentata domani venerdì 22 maggio alle 17.30 nella sala San Carlo la ristampa del libro Teramo a fumetti di Luigi Braccili per quale motivo avete pensato in collaborazione con l'assessorato alla pubblica istruzione del comune di Teramo di dar modo insomma in qualche modo di rispolverare questo interessante volume beh diciamo che io sono stata chiamata insieme all'assessore Romanelli in causa indirettamente però è una bellissima iniziativa perché alcune maestre teramani fra cui la consigliera Manerita Santone utilizzavano questo libro che fu stampato tanti anni fa per insegnare ai ragazzi della quinta elementare la storia di Teramo cosa importante e anche molto bella perché il libro è fatto a fumetti quindi comunque i ragazzi sono attirati soprattutto conoscere la storia di Teramo delle nostre famiglie è un dato importante e rilevante però siccome questo libro non c'era più era scomparso era finito e non era più ristampato abbiamo coinvolto il figlio di Luigi Umberto Braccili e abbiamo fatto rinascere questa ristampa per questo ringraziamo Lisciani che ci ha donato perché qui abbiamo fatto tutta attività di volontariato ci ha donato la stampa di questo libro e verrà per il regalato adesso il giorno domani in questa manifestazione a tutte le quinte della scuola di Teramo perché abbiano anche loro la possibilità di utilizzare un magnifico libro per spiegare la storia di Teramo ecco ai bambini chiaramente piace di più studiare attraverso le immagini e dunque i fumetti attraverso le immagini e i fumetti io l'ho usato siccome era scomparso il libro l'ho usato facendo fotocopie e quindi avevo questo sogno che tutti i bambini avessero la copia del libro e quindi è nata una sera tra me e lei questa idea e abbiamo chiamato abbiamo interpellato il figlio perché Luigi Braccilli non c'era più e subito lui prontamente con entusiasmo ha abbracciato l'idea e tutti in gruppo una squadra e abbiamo portato a termine questo sogno Ricambio culturale innovazione e nuovi modelli organizzativi scelte irrinunciabili per la crescita lo sviluppo e la competitività di imprese e territori e il titolo del workshop organizzato da Confederazione Italiana Agricoltori e Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica il servizio Giovani imprenditori verso il settore agricolo e agroalimentare il CIPAT Abruzzo del via un progetto di formazione finanziato da Ismea e Mipaf riservato a giovani imprenditori di Abruzzo e Molise che sposteranno la loro attenzione sul mondo rurale negli anni di crisi è stato sempre l'unico settore che ha continuato a fornire lavoro ed oggi sono tante le storie di successo di attività agricole garantisce Matteo Ansanelli presidente di Agricoltura e Vita Associazione Tutto questo si tiene attraverso delle persone che hanno un nome un cognome delle facce che noi come associazione Giovani mettiamo insieme facciamo stare insieme giovani provenienti da regioni diverse perché pur operando loro in territori diversi in condizioni diverse per culture differenti nel loro stare insieme possono trasferirsi quelle che chiamiamo definiamo le buone pratiche le best practice al fine di migliorare quella componente umana che secondo noi è la componente principale per avere successo in agricoltura e non solo Qualche dato di successo per convincere i giovani a intraprendere questa strada? Potrei citare tra i dati di successo un nostro giovane che abbiamo presentato il 5 maggio in Expo a Milano per la prima iniziativa della Confederazione degli Anni Agricoltori in Expo Milano dal titolo Vivaio Vivaio della Confederazione degli Anni Agricoltori questo è un giovane che ha un'azienda in provincia di Parma nonni coloni quindi parliamo di una persona che ha tradizione agricola ma diciamo non parliamo di un proprietario terriero d'Ocur che peraltro ha studiato anche fuori dal nostro paese che aveva iniziato una carriera universitaria che ha deciso invece di ritornare in Italia prendere in mano la gestione dell'azienda familiare e da questa azienda che era un'azienda ordinaria ha trasformato un'azienda straordinaria che trasforma il latte stagiona i formaggi li vende direttamente in Italia all'estero attraverso propri punti vendita ed è arrivato al punto di avere una cosa che sembrerà strana che è il caseificio della musica dove il venerdì e il sabato 2000 persone vanno a ballare ma anche ovviamente a consumare i suoi prodotti che sono lì Torna l'appuntamento con gli incontri di studio riguardanti New Media e la New Generation organizzati dall'Associazione Culturale Project San Gabriele il servizio L'Associazione Culturale Project San Gabriele presenta un incontro di studio New Media New Generation ovvero i giovani la scuola la famiglia tra internet e tv due appuntamenti a Castelli il 22 e a Teramo il 23 maggio Torna dunque l'attenzione su questo tema tanto sentito L'unico problema che abbiamo è che la scarsa capienza degli auditorium che esistono nella nostra città non permettono la fruizione di questo convegno nella massa nettamente superiore di giovani infatti proprio stamattina abbiamo il problema di riuscire a collocare una rappresentanza di tutte le scuole del Terramano Ecco quali sono i temi principali che andrete ad approfondire? Ma i temi principali sono sempre gli stessi la comunicazione giovanile vero è che ci interessa anche la lettura dei giornali e quella della televisione cioè quello che viene detto in televisione ma soprattutto i social network che danno un'immagine completamente diversa dalla realtà Un sub giuliese Giuseppe Di Filippo parteciperà all'Expo di Milano Di Filippo in Lombardia riproporrà il suo progetto L'Isola che non c'è una piattaforma in mezzo al mare per accogliere attività sportive e ricreative vediamo A Milano ci va un giuliese esperto in sub Giuseppe Di Filippo Sì Qual è il progetto che presenterai? Beh per la mia passione per la mia voglia di conoscere sempre il nuovo sono stato invitato e mi sono anche autoinvitato a partecipare a Casa Abruzzo a Milano in occasione dell'Expo 2015 Hai presentato finendo di realizzare un progetto dedicato al mare Sì la mia voglia di andare è duplice una perché la mia curiosità mi porta sempre a vedere il nuovo due perché voglio promuovere e uscire dalla mia purtroppo devo dire invisibilità da parte di tutte le istituzioni La regione in passato non te l'ha fatta fare l'isola che non c'è che cos'era? Brevemente puoi dire? Praticamente il progetto dell'isola che non c'è era il mio primo sogno di realizzazione di una piattaforma all'arco di Giulianova per poter raccogliere tutte le attività che possano essere sportive subacque che è pesca sportiva perché adesso in realtà nelle piattaforme non ci si può arrivare se si viene multati esattamente ne abbiamo tutti i giorni riscontro sarebbe stata l'unica sul mare Adriatico vero? L'unica sul mare Adriatico Perché hanno detto di no? Non è che hanno detto di no è che chiaramente non avendo 5 o 6 milioni di euro non ho trovato fonti Non ce l'hai 5 o 6 milioni di euro? Ancora no e la comunità europea purtroppo c'è stato un errore di misura e non è passata Però sta per passare intorno almeno il tuo secondo sogno quello di realizzare una piscina per sub a Giulianova perché invece attualmente voi andate a fare allenamento a Teramo Sì come piscina per forza a Teramo oppure negli hotelli d'estate E quali ne sono di ragazzi che ragazzi anche abbiamo visto che insomma che fanno questo sport Sono 20 anni e più che insegno e già dalle foto sui muri si possono vedere che sono io almeno ho brevettato più di 250 persone 250 persone Sì nella mia lunga attività Le Sultane di Marilu Oliva una sola controindicazione non mangiate hamburger quando lo leggete per il resto Le Sultane è un libro che merita di essere portato sotto l'ombrellone questa estate vediamo perché Un bel libro perché leggere Le Sultane di Marilu Oliva è un piacere lettura che scorre fluida ed intrigante tra suspense piccoli drammi vizi e virtù di tre donne un po' in su con l'età tre vicine d'appartamento che affascinano per la loro inquietante e straordinaria ordinarietà e Oliva ti porta ad invadere la loro vita che un evento rende poco ordinaria e molto vincente almeno per chi legge di bassi istinti non solo di conservazione fino a meravigliosi slanci emozionali chi sono le Sultane lo abbiamo chiesto a Marilu prima della presentazione alle librerie punto cop del centro d'Abruzzo sono tre donne ultra settantenni ferite dalla vita che sanno che il loro tempo il loro raggio d'azione si restringe quindi se lo vogliono godere fino in fondo il tuo romanzo noir ma c'è un filo di ironia di fondo ma non esagerato si è noir è anche un po' commedia è anche un po' tragedia lo spruzzo noir c'è perché non posso farne a meno proprio è più forte di me e c'è anche un pochino di pulp questa ironia di cui parli hai ragione ho dovuto utilizzarlo perché si trattano di temi anche molto forti allora li ho risolti col grottesco con l'ironico perché se no avrei potuto appesantire la narrazione invece volevo prendere il lettore per mano e ogni tanto farlo anche sorridere ma le soltane tu le hai mai incontrate? eh come no come diceva Stevenson tutti i personaggi esistono magari non esistono così integri no? però esistono come collage di persone che abbiamo incontrato un po' ci abbiamo messo del nostro e quindi sì in qualche modo esistono in particolare Mafalda la donna più tirchia sulla faccia della terra io l'ho conosciuta quando ero bambina e vedevo questa signora per cui la tirchieria era proprio una vocazione intimissima e la guardavo come un artista un libro straordinario che vale la pena di leggere anzi c'è appena un mese di tempo perché tra un mesetto ci sarà qualcosa di nuovo sì è in uscita il mio nuovo romanzo che si intitola Lo zoo e credo che sia la cosa più dura che io abbia scritto fino adesso però ci vuole insomma voglio proseguire in questo cammino e per la prima volta ho cambiato l'ambientazione non è più bolognese ma mi azzardo a entrare nel Salento che è comunque un territorio che conosco molto bene e c'è un gruppo di persone potenti che tengono rinchiuse in questo zoo umano delle persone più deboli Torniamo a Teramo ieri sera al Maggio Fest successo per lo spettacolo teatrale Rottami questa sera inizia la sezione dedicata alla musica e il servizio lo sapevo te sei po' di niente che te metti subito a piangere che è? te senti una donna perché te ce vesti Emanuela Guaiana protagonista e scrittrice autrice dello spettacolo Rottami cinque personaggi al confine al margine sì questo spettacolo diciamo che sono è una specie di composizione è uno spettacolo di prosa e diciamo che racconta sì cinque piccole fotografie in movimento queste cinque anime si aggirano in una periferia romana che allo sfondo diciamo è il ritmo anche di tutto lo spettacolo sono un cane una prostituta un ragazzino una donna morente e un lavapiatti straniero e tutti loro cercano di sopravvivere ostinatamente alla loro condizione vitale che è arrivata diciamo ad uno stadio ormai veramente di sopravvivenza al limite e aspettano qualcuno che forse li salverà o forse no un braccio però onesto te se fanno all'arte teggio no mi ha fatto battere il cuore ho un manco da ragazzina così mi ha fatto venire in coccolone dopo l'ultimo spettacolo teatrale del cartellone del maggio di Emanuela Guaiana per la regia di Filippo Dini Rottami che si è tenuto nell'aula conferenza della facoltà di scienze della comunicazione per l'università questa sera passiamo alla musica per maggio fest con Arturo Variante e Aguasero in concerto quindi alle ore 21 nella sala San Carlo del museo archeologico ci sarà questo concerto pensato apposta per il maggio fest e spero che veniate come negli altri appuntamenti a ascoltare un nostro concittadino molto bravo che è Arturo Variante e i suoi amici e i suoi compagni ed è arrivato il momento della rubrica di Giancarlo Falconi carta canta vediamo tutti noi ce la prendiamo con la storia ma io dico che la colpa è nostra è evidente che la gente poco sedia quando parlo di sinistra a destra ma cos'è la destra cos'è la sinistra destra a 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 sinistra basta benvenuti a carta canta una domanda a che servono i politici a che servono i nostri rappresentanti in regione devono fare i selfie con la bottiglia di vino si rappresentano quando c'è una situazione come quella dell'IZS della clean service della cooperativa che dà servizio all'istituto forse tra i più importanti in Europa e al mondo quando una cooperativa è costretta dopo 21 anni per la prima volta a pagare metà dello stipendio il politico di riferimento sul territorio dovrebbe farsi delle domande e dare delle risposte immediate parlo di Sandro Mariani capogruppo del Partito Democratico Dino Pepe assessore regionale agricoltura e Luciano Monticelli consigliere regionale scrive Francesco Di Giorgio amministratore unico della clean service SRL si rende noto che a causa del mancato pagamento da parte della nostra committenza istituto zoo profiliatico G caporale che alla data odierna non ha ancora provveduto a liquidare le fatture relative ai servizi effettuati dal mese di gennaio 2015 ci vediamo costretti nostro mangrado a non poter far fronte all'impegno del pagamento dello stipendio del mese di aprile 2015 dato il periodo economico negativo non siamo in grado di retribuire il 100% dello stipendio pertanto si comunica che in data odierna abbiamo provveduto a bonificare il 50% degli importi nella speranza di ricevere da parte dell'ente nel più breve tempo possibile la liquidazione delle fatture comunichiamo che sarà nostra premura liquidari e saldo di quanto dovuto non appena possibile è la prima volta che capi dopo 20 anni questo è un record del governo d'Alfonso ricordiamo che sono fondi europei che la regione Abruzzo dovrebbe passare all'IZS sono fondi dell'IZS non ci sono risposte si spera in un prossimo futuro di poter risolvere la questione questa non è politica il fatto di rinviare le soluzioni la vera politica dovrebbe subito risolvere questa situazione perché si parla di lavoratori e non preoccuparsi del nuovo direttore di decidere a tavolino se sarà Mattioli o un altro a prendere il posto dell'attuale direttore generale dell'IZS ci sono altri argomenti in campo e i lavoratori vengono prima di tutti carta canta eccoci alla pagina sportiva cominciamo con il calcio questa sera il Teramo fa il suo esordio nella Supercoppa di Lega Pro alle 20.45 i Biancorossi sono di scena allo stadio Arechi contro la Salernitana vediamo il servizio questa sera per il Teramo c'è il primo antipasto di Serie B alle 20.45 il Diavolo è di scena allo stadio Arechi per il match d'esordio nella Supercoppa di Lega Pro dinanzi a quasi 20.000 persone l'avversario dei Biancorossi sarà la Salernitana formazione controllata dal duo Mezzaroma-Lotito il primo ex proprietario del Siena il secondo attuale patron della Lazio contro il Granata mister Vivarini darà spazio ad alcuni degli elementi meno utilizzati nel corso del campionato in attacco Andrea Bucchi contende una maglia ai gemelli del gol la padule Donnarumma mentre sull'out sinistro dovrebbe giocare Masullo salernitano doc è cresciuto proprio nel settore giovanile Granata ha qualche chance di impiego al centro campo anche l'esterno Petrella dal canto suo invece la salernitana che sabato scorso ha perso 3-2 a Novara sarà imbottita di seconde linee tanti infatti i pezzi in A90 assenti per problemi vari tra questi gli squalificati Tui e Trevisan e l'infortunato Moro quest'ultimo mediano esempoli il regolamento il diavolo giocherà il terzo incontro di Supercoppa con il Novara domenica sera alle 20.45 allo stadio Bonolis di Piano Daccio se al termine della manifestazione due o tre squadre dovessero arrivare a pari punti per l'attribuzione del titolo verranno considerate rispettivamente la differenza reti della fase finale il maggior numero di reti segnate e il maggior numero di reti segnate nella partita in trasferta se la parità dovesse persistere si farebbe ricorso invece al sorteggio l'arbitro Salernitana Teramo sarà diretta dal quinto anno Alessandro Caso di Verona il fischietto veneto ha diretto 84 incontri con un bilancio di 40 segni 1 15x e 29.2 a un precedente con il diavolo quest'anno Teramo-Reggiana è finita 1-0 e adesso il San Nicolò che continua a stupire o meglio continua a giocare come sa cioè bene e a vincere lo ha fatto anche a San Benedetto del Tronto vediamo il servizio la San Benedettese archivia il sogno di tornare tra i professionisti uscendo alla prima gara dai playoff dopo aver ceduto a Riviera 0-2 contro il San Nicolò apparso più tonico sotto il profilo atletico e meglio preparato al punto di vista tattico mentre i ragazzi di Paolucci hanno provato a metterci il cuore soprattutto dopo essere rimasti in inferiorità numerica che recriminano per alcune decisioni arbitrali discutibili specie nel finale di gara il tecnico della Samba Paolucci deve rinunciare a Borghetti febbricitante che va in panchina e conferma il consueto 4-4-2 con full hop tra i pali Botticini e Vallorani sugli esterni con Pepe e Fedi centrali di difesa Paolis e Carteri in mediana con Baldinini a destra e Napolano a sinistra Tozzi Borsoi e Padovani sono in due offensivo modulo speculare per Epifani che sceglie di mandare in campo Lupinetti in porta Pretara Natale in body Micoluce e Mozzoni sulla linea di difesa Chiacchierelli Petronio De Santis e Lex Valimma centrocampo e coppia attacco composta da Bartolini e Stivaletta arbitra Nicoletti di Catanzaro la Samba parte bene e tenta sin dall'avvio di occupare la metà campo bianco-blu e si procura la prima occasione dopo quattro minuti punizione in Napolano ribattuta dalla barriera l'azione prosegue con Paolis che prova il lancio in area sull'incomprensione tra Lupinetti e Natale in body si infila Tozzi Borsoi che riesce a toccare sopra il portiere ma la prova sfila l'acqua in soffio il San Nicolò risponde due minuti dopo con Valim che centra da sinistra Stivaletta devia con la punta Fulop è attento e blocca il San Nicolò prova a uscire dal guscio e si rivede al decimo con Chiacchiarelli che prima su punizione prova la conclusione violenta ma trova Fulop a respingere con i pugni e pochi istanti dopo è lo stesso numero 7 a far scorrere un brivido a Riviera incrociando bene con il destro dal vertice dell'area ma il pallone indirizzato sul secondo palo finisce fuori dopo le prime schermaglie le due squadre sembrano essersi prese le misure ma la Samb soffre l'ottimo palleggio degli ospiti al rientro in campo dopo il riposo i due tecnici non operano cambi e la gara sembra scorrere sugli stessi binari della prima frazione fino al 53esimo quando su una conclusione di cartelli rivattuta alla difesa abruzzese la carambola favorisce Stivaletta che punta fede in campo aperto il numero 5 rosso-blu non trova soluzione migliore che stenderlo Nicoletti non ha esitazioni e lo spedisce anzitempo sotto la doccia la Samb in inferiorità numerica si riorganizza con Vallorani che va a far coppia con Pepe al centro Valdinini a retro sulla linea difensiva a sinistra e Padovani prende il suo posto largo a destra con il solo Tozzi borsò in avanti il San Nicolò capisce la situazione di difficoltà e prova subito ad approfittarne alla 57esimo Chiacchierelli salta Baldinini in area calcia sul primo palo Funop si rifugia in angolo al 58esimo Epifani sostituisce De Santis con Moretti mentre Polucci prova a correre ai ripari richiamando al 62esimo Napolano per inserire Borghetti con Vallorani che torna a sinistra e Baldinini che avanza di nuovo sulla mediana al 65esimo su un rilancio dalle retrovie Natale Mbodi commette un ingenuo mani al limite dell'area per contrastare Tozzi borsò e viene ammonito fuori Napolano sul pallone va Tozzi borsò ma la conclusione è da dimenticare il San Nicolò sembra averne di più intorno al settantesimo un'insistitazione avruzzese che costringe la difesa rosso-blu a liberare con grande affanno fa da prologo al gol che si concretizza un minuto più tardi Mozzoni mette in mezzo alla sinistra l'inserimento puntuale di Moretti brucia la retroguardia della Samba ed il suo tocco lascia di sasso Fulop e si infira le sue spalle per lo 0 a 1 la reazione della Samba c'è ma è sterile mentre il San Nicolò vede la possibilità di assestare il colpo il KO al settantaseiesimo Borghetti sbaglia in disimpegno Moretti prova ad involarsi verso la porta e la Samba e sull'uscita disperata di Fulop cade a pochi metri dall'area Nicoletti è inflessibile ed estrae rosso anche per il portiere rosso-blu lasciando la Samba in nove Paolucci tira fuori Paolis per inserire il secondo portiere Marani tra le proteste del pubblico che si infuglia al settantanovesimo quando dopo una serie di duri scontri all'altezza della panchina rosso-blu ferma il gioco soltanto per espellere il tecnico di casa le due squadre inevitabilmente si allungano e all'ottantesimo stivaletta fallisce il raddoppio in contropiede mentre un minuto dopo Padovani viene chiuso prima di poter calciare e appoggia Tozzi Borsoi murato dalla difesa avruzzese la Samba tente tutto per tutto all'ottantacinquesimo Padovani sfugge alla guardia di Pretara che lo tira giù prima dell'ingresso in area di rigore ammonito anche lui ma anche la punizione successiva non ha esito con Natale in voli che anticipa Tozzi Borsoi di testa la gara ormai somiglia più a una corrida che una partita di calcio con il direttore di gara che appare incapace di tenere in pugno l'incontro con il Riviera indemoniato ma al terzo dei sette minuti di recupero concessi sul lancio dalle retrovie Gabrielli appena entrato per Bartolini tocca nettamente con le mani al limite dell'area Nicoletti lascia correre mentre il pubblico perde la pazienza definitivamente e sul rivaltamento di fronte il direttore di gara concede agli ospiti la massima punizione per l'intervento di Borghetti su Moretti il tiro dagli 11 metri trasformato da chiacchiarelli è solo una formalità da mettere a riferto per il 2-0 finale mentre l'esultanza il numero 7 Teramano è eccessiva e scalda come se ce ne fosse bisogno ulteriormente gli animi che si infiammano quando le forze e l'ordine vanno a schierarsi nei pressi della panchina e la Samb ben prima del triplice fischio finale del fischietto di Catanzaro che rientra negli spogliatoi scortato dalle forze e l'ordine così come i giocatori ospiti anche se dagli spalti del Riviera piovono solo invettive e non oggetti alla Samb resta la rabbia e l'amarezza di aver concluso una stagione che per aspettative e possibilità sarebbe dovuta andare in modo molto differente il basket nel campionato di Serie C regionale ieri sera si è giocata la semifinale di ritorno dei playoff il pentateramo ha battuto nettamente 86 a 69 il Magic Chieti e con questa vittoria ha rimesso in equilibrio la serie che adesso è sull'1-1 servirà quindi gara 3 in programma sabato alle 19 a Chieti per stabilire quale squadra passerà il turno per quanto riguarda l'altra semifinale questa sera alle 20.30 è sempre al Palas Capriano in programma l'altra gara gara 2 tra Basketball Teramo e Rino Termoli con i Molisani avanti 1-0 nella serie Roseto ospita la finale nazionale under 15 femminile di basket dal 26 maggio al 2 giugno le migliori 32 compagini italiane si sfideranno tra Roseto Atri Giulianova e Alba Adriati che alla finalissima del 2 giugno alla Palamangetti di Roseto andrà in diretta su Sky Sport chiudiamo con il tennis Andrea Maria Artimedi giovane campionessa del tennis club Roseto di soli 12 anni dopo aver trionfato nel campionato regionale under 12 aver conquistato l'accesso al torneo di qualificazione nazionale ha vinto anche il torneo di quarta categoria Città di Teramo al circolo tennis Costante Bernardini infatti la Artimedi si è scontrata con giocatrici di tutte le età battendo in finale 6-4-6-2 la Teramana Eugenia Servedio la piccola campionessa visti i risultati raggiunti sarà presto premiata in ambito scolastico come migliore atleta della provincia di Teramo Andrea è per noi un motivo di vanto ha dichiarato soddisfatto il presidente del tennis club Roseto Bianchini e rappresenta per i più giovani un esempio da seguire per combattività buon tennis e correttezza bene allora prima di salutarci vi ricordo le trasmissioni in onda questa sera come ogni giovedì su Teleponti alle 21 inside dentro il personaggio curato e condotta dal nostro direttore Roberto Almonti l'ospite di questa sera è l'attrice Grazia Scucci Marra a seguire controvento curato e condotto da Dorotea Mazzetta questa sera una sorta di viaggio all'interno del reparto di radioterapia dell'ospedale Mazzini di Teramo dunque dedicato alla sanità grazie non dimenticate domattina l'appuntamento alle 7 puntuali con Prima di Tutto arrivederci buonasera grazie a tutti